Libero te, sempre tu vivrai Generale, è una giornata importante per tutte le forze dell'ordine è una giornata importante anche dal punto di vista della riflessione Certo, per le forze armate, per le forze dell'ordine, per chi veste le uniforme per chi serve il paese perché ovviamente tutto questo non può prescindere da una base e da un pensiero spirituale che deve sostenerlo Cosa rappresenta per lei comunque anche personalmente questa giornata? È una giornata nella quale bisogna ritrovare la ragione delle nostre scelte e la ragione delle nostre scelte, il motore della ragione delle nostre scelte sta nelle forti convinzioni, sta nel nostro spirito sta negli insegnamenti molto più alti ai quali dobbiamo ispirarci E come concedere con questa santa eporestia lo ringrazio a Vincenzo Lo ringrazio a voi il saluto inizialmente E come un'